Musica Bella a tutti ragazzi sono Iga e benvenuti nel terzo episodio della GTA 3 di GTA 3 Prima di iniziare volevo fare questa cosa che proprio in questo momento mi è arrivato Francesco Diploma volevo salutare Francesco Diploma perché me l'ha chiesto allora lo voglio salutare Ciao Diploma Ciao Diploma Iniziamo subito con Allora Carica partita Porto in giro mi cira questo Non ho fatto niente dall'ultima volta solo che ci gioco Ho ripreso Allora Uh che bella casa guardate Loll Prendiamo la macchina Dobbiamo prendere una macchina Me ne scordo di metterla Io di qui per C'è già la macchina Grazie Prendiamo la macchina Scusate non posso comprarlo in questo momento e quindi scusate Non c'è già la macchina Non c'è la macchina Non c'è la macchina Prendiamo la macchina la diabla è la sola macchina banzo usate se sentite l'auda che cazzo di lago a non mangiare una respina sui fatti adesso non mi vedo la radio Mettete a T primo! Porca puttana che scontro! Dove vai? Questa straccia non perderà! Che l'ho fatto fuori! Mi prego pure la macchina tua adesso! Gioca! Che vantaglia ragazzi! Escutate per il lato! Disponibile da anni mezzo! La pistola! Ok! Andiamo a cercare! Contro! Mamma mia! Abbiamo fatto contro il diablo! Non voglio morire per perdere queste armi! Che! Minca! No! 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 Ho giocato una prostituta un anciano! Festa degli squiri! Uh! Mamma mia quanto è alto quest'uomo! Forse ci! Veloce! Ok! Devo portare... le prostitute in pratica a quella signora brave! Ehm... Alla festa degli squiri! e porto almeno quattro ragazza, l'aspetto esistico, prima che scari il tempo, quindi almeno porto la cassa, quindi riprendi un capo qui ok, ok, ok ok, ok Talib non ha prendo un'altra quando si fa un po' male Talib ma una e due a fine Talib Talib vi andiamo che laccata NABUR usate quel laggiatone incredibile ma che l'acqua che l'acqua che l'acqua che l'acqua ora che l'acqua 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 è in me Colan! Ah! Devo portarci! non è un po' di me stacassi Non so che volete stare le picche poste, però non potete aspettare niente. Non pericolo, non pericolo, non pericolo come te! Lasciami in pace! E voglio raccogliere le prostitute! Muoviti a salire! Mignoscona! Dai un minuto per portarle tutta la testa! Sua madre è una prostituta! Sala diablo! Sapete come ripagarmi con il 3 in macchina? Ripassaggio? Ma ancora? Ce lo c'è? Sì! Ma andiamo a prendo quella minottona! Non ce la farò male! Oh, di più ci va! Sì! 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 Mi ce l'è compiuta! Sì! 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 Mi ce l'è compiuta! Sì! 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 Cazzo ti suoni! Cazzo ti suoni! Tira! Che allargata! E basta chiamare! Cazzo ti suoni! Sampuro! Troppi rumori mi fanno fondare vicino, sta troia! Ok ragazzi, per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto altre due missioni. Ci vediamo nel questo episodio con GTA IV e questo episodio è stato epicissimo perché il primo incontro con armi da fuoco l'ho avuto oggi. Ci vediamo da tutti, ci aiuto di nuovo, nuovamente. Diploma! Ciao Francesco Diploma e ciao a tutti!